Come cristiani dobbiamo parlare e agire come fratelli se vogliamo rispondere in modo incisivo alle problematiche del nostro tempo e così rispondere alla globalizzazione dell'indifferenza con una globalizzazione della solidarietà e della fraternità che tra i battezzati dovrà risplendere in modo ancora più nitido. Lo ha detto Papa Francesco incontrando i partecipanti al convegno ecumenico di Vescovi Amici del Movimento dei Focolari. La nostra coscienza di cristiani di pastori, ha aggiunto, è interpellata dal fatto che in diversi paesi manchi la libertà di manifestare pubblicamente la religione e di vivere apertamente secondo le esigenze dell'etica cristiana, dalle persecuzioni nei confronti dei cristiani e di altre minoranze, dal triste fenomeno del terrorismo, dal dramma dei profughi causato da guerre e da altre ragioni e dalle sfide del fondamentalismo e dall'altro estremo dal secolarismo esasperato. Tali sfide, ha concluso il Papa, sono un appello a cercare con impegno rinnovato le vie che conducono verso l'unità perché il mondo creda. Grazie a tutti.